Ebola in Africa occidentale è un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale. Ad annunciarlo è un tweet dell'OMS, dopo la riunione del Comitato di Emergenza, per discutere proprio se dichiarare l'epidemia della malattia un'emergenza di portata internazionale. Alcuni gravi eventi che mettono in pericolo la salute pubblica, spiega l'OMS, possono essere definiti emergenze sanitarie di portata internazionale. internazionale. Questa definizione comporta che l'evento è grave, insolito o inaspettato, che le implicazioni per la salute pubblica vanno al di là delle frontiere nazionali dello Stato interessato e che potrebbe essere necessaria un'azione internazionale immediata. Comunque evidenzia l'OMS l'Ebola è una malattia infettiva che può essere contenuta, non è una patologia misteriosa, può essere fermata. E non è necessario alcun divieto generale di viaggio o di commercio internazionale a causa dell'Ebola, a parte che per le persone colpite dal virus o che potrebbero esserne venute a contatto. I capi degli Stati in cui l'Ebola si diffonde, conclude l'OMS, dovrebbero dichiarare tutti l'emergenza nazionale, anche per avere accesso ai fondi necessari per gestire la situazione.